Ogni giorno riceviamo migliaia di input dal mondo del web, ma qual è la ricaduta del mondo virtuale sul nostro quotidiano? Nelle nostre relazioni, nei nostri comportamenti, ma persino nel nostro corpo? Cercheremo di trovare delle risposte a tutte queste domande insieme al massmediologo, docente della Pontificia Università Lateranese e presidente del Copercom, Massimiliano Padula. Il prossimo 2 marzo, sempre qui sul canale YouTube di Radio Più Roma.